Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che sono venuti qui oggi, è stato un onore per me poter entrare in questa sala, in questo comune molto importante, mi fa molto piacere anche del premio che mi è stato dato, io ho voluto mangiare e ricambiare questo premio con la mia maglietta dell'esordio, questo è il mio riconoscimento per il piacere che mi ha fatto questa cosa. Che cosa consigli a un giovane che vuole intraprendere una carriera nel mondo dello sport? All'unico mio consiglio che mi sento di dare è quello di crederci sempre, anche io sono partito come tutti i ragazzi in un campetto di paese, di crederci sempre perché con i sacrifici e la voglia di lavorare e di migliorare si può arrivare ad obiettivi che magari non ci si immagina neanche. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, che è qua.